Sostanze, cose, strutture o successioni di esperienze desiderate che sono in un certo senso buone per l'organismo, regimi alimentari, condizioni di vita, temperatura, divertimenti, sesso e così via, non sono mai tali che una quantità maggiore di esse sia sempre meglio di una quantità minore. Al contrario, per tutti gli oggetti e le esperienze esiste sempre una quantità con un valore ottimale. Al di sopra di esso la variabile diventa tossica. Scendere al di sotto di quel valore significa subire una privazione. Questa caratteristica dei valori biologici non si riscontra nel denaro. Il denaro ha sempre un valore transitivo. Più denaro è presumibilmente sempre meglio che meno denaro. Per esempio, mille e un dollaro sono preferibili a mille dollari. Per i valori biologici le cose non stanno così. Più calcio non è sempre meglio che meno calcio. Vi è una quantità ottimale di calcio di cui un dato organismo può aver bisogno nella sua dieta. Al di sopra di essa il calcio diventa tossico. Analogamente, per l'ossigeno che respiriamo, per i cibi o per le componenti di una dieta e probabilmente per tutti gli elementi presenti in una relazione, il troppo è nemico del bene. Si può anche soffrire per troppa psicoterapia. Una relazione senza conflitti è noiosa. Una relazione con troppi conflitti è tossica. Ciò che è desiderabile è una relazione con una quantità ottimale di conflitti. Perfino il denaro, considerato non in sé ma nei suoi effetti su chi lo possiede, può forse, oltre un certo limite, risultare tossico. In ogni caso, la filosofia del denaro, l'insieme dei presupposti secondo cui quanto più denaro si ha, tanto meglio è, è del tutto antibiologica. Less is more è un podcast in cui parlo di minimalismo, organizzazione e semplificazione della quotidianità. Perché diciamocelo, la vita è un casino e se possiamo provare a renderla più semplice, ci facciamo un grande regalo. Però ne parlo a modo mio. Se cercavi uno di quei guru zen vestiti in bianco e nero, mi dispiace, non è questo il podcast giusto. Io mi vesto a colori. Ho due lavori, un marito, un cane, mille cose da fare e mai abbastanza tempo. Io sono Simona e sono una professional organizer. Ci sono volute ben nove puntate per decidermi a proporti questo brano di Gregory Bateson, tratto dal suo libro Mente e Natura, che ovviamente trovi poi linkato nelle note della puntata. Dicevo, ci sono volute nove puntate, questa è proprio la nona, ma io in realtà avevo questo brano lì pronto fin dalla primissima puntata. Anzi, ancora prima ce l'avevo pronto fin da quando ho deciso che avrei fatto un podcast a tema minimalismo. Me lo sono tenuto lì e me lo sono conservato perché volevo che fosse l'apice di un percorso al quale portarti dopo aver parlato di un po' di cose pratiche, di un po' di strategie, per riuscire a fare decluttering, per riuscire a capire che cos'è il superfluo, per decidere a dare un valore a tutto quello che possiedi. Ovviamente il cammino sarà ancora lungo, non pensare che finiamo qui, però ecco, secondo me alla nona puntata era un buon momento per condividerti Gregory Bateson. Mente e natura, il libro da cui ho tratto il brano che ti ho letto prima della sigla, è datato, pensa, 1979. Eppure io penso che sia di una attualità sconvolgente. Bateson è biologo e antropologo, quindi grandissimo conoscitore del genere umano, sia dal punto di vista della sua essenza, proprio del suo essere intrinseco, che dei suoi comportamenti e delle sue abitudini. E li mette insieme proprio nel suo saggio Mente e Natura, che poi tra l'altro è l'ultimo che lui scrive prima della sua morte, proprio in un compendio di tutto quello che sono i suoi studi, le sue conferenze, tutto ciò che ha appreso nella sua vita. Ti dicevo che questo libro è di un'attualità sconvolgente, perché ovviamente nel 1979 siamo molto, molto lontani da tutto quello che è l'ambientalismo, da tutto quello che è la crisi delle risorse energetiche, da tutto quello che sono Greta Thunberg e il suo movimento, eccetera. Eppure penso che questo brano abbia invece una grande valenza in tutto quello che sono le politiche di sostenibilità e salvaguardia del nostro pianeta. Il troppo e l'eccesso non sono comportamenti sostenibili, il quanto basta sì. Ma cosa vuol dire vivere con il quanto basta? Gregory Bateson ci fa riflettere sul fatto che il pianeta, la natura, i cicli che governano tutto quanto, hanno intrinsechi in loro stessi il concetto di quanto basta. Quindi il fatto che una data sostanza, seppur positiva per il nostro corpo, se in misura quantitativamente elevata, può diventare tossica. Se manca, manca la sopravvivenza. Ci parla anche delle relazioni e dei rapporti tra gli esseri umani, quindi una relazione troppo litigarella e tossica, ma una relazione troppo piatta, quindi non sufficientemente litigarella, a lungo andare potrebbe essere noiosa e poco appagante, quindi anche in questo caso una via di mezzo. In realtà, secondo me, possiamo ampliare di tantissimo questo concetto, proprio a tutto quello che è il sistema pianeta. Pensa per esempio agli ecosistemi che si reggono su dei delicati equilibri di giusta quantità. Ti faccio un esempio. Se nella savana ci fossero troppe antilopi, l'ecosistema ne verrebbe danneggiato, perché troppe antilopi mangerebbero troppa erba, mangerebbero troppe piante, quindi la flora ne difficiterebbe e l'ecosistema non potrebbe reggersi. A regolare il numero degli antilopi, perché non diventino troppe, ci sono i leoni che danno la caccia alle antilopi e le usano per la propria sussistenza. Quindi, cercando di semplificare, non ci sarà mai troppa erba perché le antilopi la mangiano, ma non ci saranno mai troppe antilopi, perché i leoni le mangiano. Dall'altro lato non c'è il rischio che le antilopi scompaiano per colpa dei leoni che ne mangiano troppe, perché i leoni non conoscono il concetto di scorpacciata, mangiano soltanto per la loro sussistenza, quindi ne cacciano una alla volta. Mangiano e quando avranno di nuovo fame ne cacceranno un'altra, quindi non c'è il rischio che l'equilibrio vada compromesso. Dall'altro lato è anche vero che non sempre la caccia va a buon fine, e quindi a volte ci possono essere dei leoni che muoiono di fame, ma questo nel ciclo della natura è accettabile, perché serve per autoregolamentare anche il numero dei leoni. Ecco sì, funziona un po' così per tutti quanti e in tutti i settori della natura, tranne che per una specie, l'uomo. Ci sono tantissime persone che non hanno il senso del quanto basta con il cibo, mangiano troppo, si ingozzano, stanno male anche dopo pranzo o dopo cena, eppure non riescono a imparare dai loro sbagli e alla volta successiva di nuovo fanno indigestione sfondandosi di cibo senza un domani. Ovviamente questo non sarebbe un atteggiamento previsto dalla natura, non sarebbe un atteggiamento previsto dal pianeta, quindi diventa un troppo. Un troppo ripetuto tantissime volte vuol dire andare ad esaurire le riserve di cibo del pianeta. E vogliamo parlare dello stalking? Di quei delitti, di cui i giornali ormai purtroppo sono pieni, che vengono definiti per il troppo amore? Il troppo amore non è qualcosa di previsto dal pianeta Terra. Nessun animale, a parte l'uomo, ucciderebbe mai una sua simile di sesso femminile perché non vuole accoppiarsi con lui. Ma di nuovo, l'essere umano non ha il senso del quanto basta. E poi arriviamo al nostro clou, al cardine a cui gira attorno questa puntata, ovvero il troppo denaro, che in realtà va anche di pari passo ai troppi oggetti, perché con il denaro si acquistano cose. Quindi diciamo che sono due aspetti che vanno in tandem. Proviamo a fare insieme qualche ragionamento d'alta voce. Quando è esattamente che il denaro diventa troppo? Forse di prima acchito la risposta è mai. Io, guarda, ti assicuro che lo capisco perfettamente perché istintivamente nemmeno a me vorrebbe da pensare che il denaro che possiedo è troppo. Però forse è così. Forse è troppo a un concetto personalistico, ovvero se io ho troppa smania di accumulare denaro e la mia smania va a togliere denaro ad altre persone, quindi a creare dei non equilibri, forse a quel punto per me singolarmente il denaro diventa troppo. Oppure diventa troppo quando è il mio unico pensiero, ovvero quando mi dimentico di persone, relazioni, interessi eccetera per la smania di accumulare altro denaro di cui magari non ho necessariamente bisogno perché sono già una persona benestante che ha una quantità sufficiente di denaro per vivere bene e togliersi anche degli sfizi. Ma la smania, sempre quella smania, mi fa dire non è abbastanza, quindi che ne so, non vado in vacanza perché devo risparmiare, non so con la mia famiglia perché devo lavorare per accumulare altro denaro e via dicendolo. Quindi diventa un approccio un po' malato. Oppure diventa troppo quando è troppo ciò che facciamo con quel denaro, acquistare troppe scarpe, troppe borsette, troppi accessori high tech e via dicendo. Però dall'altro lato ti chiedo, ed è una domanda che lascio aperta, che ti lascio meditare e se poi vorrai condividermi la tua risposta sui social o via email sarò ben lieta di ascoltarla e di insaurare una conversazione con te. Chi è che decide quando un numero di scarpe è troppo? Ed esattamente troppo per che cosa? Cioè, qual è il parametro che mi dice ho troppe scarpe? Ovviamente le scarpe in questo caso sono soltanto un esempio, possiamo fare lo stesso esempio su chi è che mi dice che ho troppi cellulari, chi è che mi dice che ho troppi accessori per l'iPhone, chi è che mi dice che ho troppi elettrodomestici, chi mi dice che ho troppi vestiti. Ecco, sono tutte cose che ovviamente io acquisto perché ho una disponibilità elevata di denaro e quindi posso permettermi di comprarne tantissimi. Perché è ovvio che se la mia disponibilità di denaro è molto limitata, anche i miei acquisti saranno molto limitati, quindi probabilmente in quel caso il concetto di troppo non si pone, ma anzi sarà molto più forte il concetto del quanto basta, perché se sono disoccupata e non ho una fonte di reddito, magari comprerò ugualmente un paio di scarpe, ma perché mi servono, quindi quelle saranno il mio quanto basta. Quindi ti rifaccio la domanda, qual è il parametro che mi dice che di un dato accessorio, che di un dato oggetto ne ho troppi? E dall'altro lato qual è il parametro del quanto basta? Di certo decidere di perseguire uno stile di vita sostenibile per il pianeta e per il resto dell'umanità va molto di pari passo con il quanto basta. Se è vero come sappiamo che le risorse del pianeta sono limitate e alcune popolazioni o addirittura alcuni singoli individui ne posseggono troppo, è ovvio che da qualche altra parte del mondo c'è qualcuno che non ne possiede nessuna. Quindi uno stile di vita troppo accentua le diseguaglianze sociali, oltre ad essere un atteggiamento che a lungo andare il pianeta non può sostenere, perché le risorse, l'abbiamo detto prima, sono limitate, quindi si esauriscono molto più velocemente. Più la domanda di oggetti, cose, di qualsiasi tipo essi siano, aumenta e più ovviamente aumenta la produzione di questi oggetti di queste cose. Quindi aumenta il cacciare animali per prendere le loro pelli, aumenta il disboscamento, aumenta l'estrazione di materiali dal terreno, ma aumentano anche cose come il lavoro nero, il lavoro minorile, il lavoro sottopagato delle donne, tutte cose che aumentano nell'aumento in cui è esponenziale la richiesta di beni a basso costo. Questo non vuol dire ovviamente che da domani dobbiamo dare via la metà dei nostri soldi, né che da domani non compriremo più scarpe o iPhone o qualsiasi altra cosa ci serva. Secondo me però è una questione di consapevolezza, cioè sapere che ogni volta che facciamo determinate scelte, quelle scelte hanno delle ripercussioni. Quindi possiamo fare delle scelte diverse, delle scelte che vadano più in una direzione rispetto a quel quanto basta, che in altre parole possiamo anche ricondurre al nostro podcast e dire che possiamo vivere con il less, con il meno e quindi avvicinandoci un pochino ogni giorno di più a una vita minimalista. Quindi come possiamo fare per vivere più vicini a quel quanto basta? Sicuramente prendere coscienza di questo problema e fare delle riflessioni su quanto ci siamo detti fino ad ora è un inizio. In secondo luogo possiamo decidere di vivere in maniera più consapevole, cioè facendo delle scelte che ci portino in quella direzione piuttosto che vivere in maniera passiva e lasciare che sia la pubblicità, il marketing, la televisione eccetera a decidere per noi di cosa abbiamo bisogno. Se hai seguito le altre puntate di questo podcast forse ti ricorderai che nella quinta puntata abbiamo parlato di acquisti e abbiamo parlato di come il clatter, cioè le cose inutili, entrano nella nostra vita e la maggior parte delle volte abbiamo visto che sono proprio acquisti sbagliati, acquisti di cui non abbiamo necessità e che facciamo comunque pur di possedere l'oggetto, pur di sentirci soddisfatti, pur di appagare qualche mancanza. Bene, oggi io ti vorrei dare qualche suggerimento per cercare di acquistare, sì, perché comunque io non ti dirò mai che non devi più comprare nulla, ma per fare una riflessione prima dell'acquisto. Una riflessione che ci avvicini a uno stile di vita quanto bassa e che sia quindi di conseguenza molto più sostenibile nei confronti del nostro pianeta Terra. Il primo consiglio che ti do è di non acquistare mai nulla di impulso o sulla base di emozioni momentanee. Se vedi qualcosa in una vitrina che ti piace, torna a casa e pensaci uno o due giorni. Se l'impulso, se la voglia di acquistare quell'oggetto sarà ancora presente, torna al negozio e acquistalo, altrimenti probabilmente ti sarà passata e non considererai più così bello, così necessario e così indispensabile quell'acquisto. Quindi avrai risparmiato soldi e non ti sarai messo in casa qualcosa che è totalmente inutile. I momenti peggiori dove fare acquisti di impulso sono i momenti dei saldi e delle promozioni, perché spesso prendiamo la nostra amica, andiamo in centro città o in qualche centro commerciale, ma sì dai, vediamo se troviamo qualcosa di carino con i saldi. E quindi non stiamo davvero cercando qualcosa, ma solo diciamo un metodo per spendere i nostri soldi e cercare qualcosa di conveniente. Però io ti voglio ricordare che in realtà se una cosa prima costava 100 euro e adesso costa 60, tu non stai risparmiando in realtà 40 euro, ma ne stai sempre pagando 60, quindi c'è comunque un'uscita di denaro, ok? Il vero risparmio esiste se io avevo veramente bisogno di quell'oggetto, lo avevo visto a 100 e ora lo compro a 60, allora sì che c'è un risparmio, ma altrimenti vedere solo se trovi qualcosa con i saldi non stai risparmiando niente. Consiglio pratico, quando ti accorgi che ti manca qualcosa in casa, sia un vestito, delle scarpe o un piccolettro domestico, un accessorio, appuntatelo in una lista, per esempio sul cellulare. La prossima volta che ci saranno i saldi, oppure quando ci sono quelle situazioni particolari tipo il Black Friday, ecco che avrai una lista di cose di cui hai veramente bisogno e che a quel punto potrai andare a cercare scontate in saldo. In questo modo unirai l'utile al direttevole, comprerai una cosa che davvero ti serve a un prezzo ribassato. Il secondo consiglio che ti do è di darti sempre un budget di spesa quando decidi di acquistare qualcosa. Evita assolutamente di contrarre dei debiti per qualcosa che non è strettamente necessario. Benissimo fare un mutuo per acquistare una casa. Benissimo fare un finanziamento per acquistare un'automobile, ma accendere un prestito per andare in ferie? Beh no, quello no, proprio io lo sconsiglierei. Vai in ferie in un luogo che ti puoi permettere. Anche quando decidi di acquistare piccoli beni, come una maglietta o un paio di scarpe, decidi in anteprima quanto vuoi spendere e cerca di non andare oltre quella spesa. ti eviterà di fare spese al di sopra delle tue possibilità. Il terzo consiglio che ti do è di valutare se invece di acquistare un oggetto nuovo e che poi ti rimarrà in casa, può invece valerla pena l'opzione prestito o noleggio. Magari sai che qualche tuo amico o parente possiede già quell'oggetto, quindi evita di acquistarlo e chiederglielo in prestito. Al massimo poi lo ripagherai con una bella cena. Molte cose poi si possono anche proprio prendere a noleggio, per esempio anche un'automobile. Se la tua vita è molto cittadina e quindi ti muovi con i mezzi pubblici, la bicicletta e il motorino, potresti anche pensare di valutare di non acquistare un'automobile e di prenderla a noleggio solo in quelle circostanze in cui ti serve. Il quarto consiglio che ti do è, prima di acquistare un oggetto, chiederti sempre dove lo vuoi mettere. Raffiguratelo già, chiudi gli occhi e pensa alla tua casa. Decidi in quel momento lì, ancora prima di entrare nel negozio, dove posizionerai quell'oggetto. Se non hai le idee chiare, se non hai un posto in cui sai già che lo vuoi mettere, se l'opzione che ti viene in mente è ma sì dai poi ci penserò, lascialo dov'è, perché quasi certamente stai acquistando qualcosa che non ti serve, che poi posizionerai così su una mensola o su un tavolo o per terra o in cantina e non gli darai davvero un senso, non gli darai davvero un'importanza. Starai semplicemente comprando qualcosa in più solo per il gusto di comprare. Quindi se non hai una posizione già ben delineata dove mettere l'oggetto, lascialo perdere. Attenzione, questo vale anche per le scarpe più rivestiti. Se il tuo armadio è già pieno, se la tua scarpiera è già piena, non vale andare a prendere il posto di tuo marito o del tuo compagno o di tua sorella. Tu devi rimanere dentro il tuo spazio. Quindi se un nuovo paio di scarpe non entra nella scarpiera, non si acquista. E qui arriviamo anche al quinto consiglio. One in, one out. Poniti sempre l'obiettivo che se acquisti un oggetto nuovo, uno della stessa famiglia dovrà uscire di casa. Quindi se acquisti un nuovo paio di scarpe, un altro paio di scarpe deve uscire. Se non sei pronto a lasciare andare un paio di scarpe che possiedi già, lascia le scarpe nuove dove sono. Perché vuol dire che sono un di più, che sono qualcosa che non ti sta servendo. Sesto consiglio. Privilegia gli acquisti di seconda mano. Tutto il settore del riciclo, del vintage, del seconda mano, è qualcosa che è estremamente sostenibile. Perché andiamo a riutilizzare qualcosa che esiste già, senza andare a costruire, tra virgolette, qualcosa di nuovo. Quindi non sprechiamo nuove risorse e nuove energie. Inoltre, di solito, gli acquisti di seconda mano sono molto molto più convenienti. Quindi risparmiamo anche dei soldi. Ultimo consiglio. Sforzati di dire no a tutto ciò che è gratis. Perché come abbiamo detto già in puntate passate, 9 volte su 10 gratis vuol dire inutilità. Non tutto ciò che è gratis è anche bello. Non tutto ciò che è gratis ci serve. Penne, soprammobili, tazze, bicchieri, ne hai sicuramente in abbondanza. Quindi se qualcuno ti vuole dare la tazza gratis in cambio di due pacchetti di merendine, lascia la tazza dov'è. Perché non ti serve. Come vedi non sono dei consigli molto complicati. Anzi sono, secondo me, molto molto semplici. Il loro comune denominatore è la consapevolezza. È un momento di riflessione prima dell'acquisto. Quindi ti invito a prenderti un momento prima di entrare in un negozio, prima di decidere di acquistare e farti queste domande che ci siamo fatti insieme ora. Le ripetiamo velocemente, giusto per fare il punto. Numero uno, no agli acquisti sulla base dell'impulso del momento. Prenditi uno o due giorni per rifletterci e poi eventualmente torna. No anche agli acquisti, ma sì vediamo se troviamo qualcosa. Fai una lista e compra solo cose che effettivamente sai che ti servono. Numero due, datti sempre un budget di spesa oltre il quale non andare. Numero tre, chiediti se quell'oggetto lo puoi prendere in prestito o noleggiarlo. Numero quattro, prima di acquistare un oggetto chiediti dove lo metto. Numero cinque, one in, one out. Numero sei, privilegia gli acquisti di seconda mano. E numero sette, impara a dire di no a tutto ciò che ti arriva gratis. Prima di chiudere questa puntata voglio darti un'ultima informazione. Negli ultimi tempi la maggior parte del troppo è entrata nelle nostre case tramite gli acquisti online. Acquistare oggetti online è comodissimo. Lo si fa dal divano di casa con un click, si sfogliano tutte le opzioni possibili, si leggono le caratteristiche, si sceglie il colore e via. Basta una carta di credito e il gioco è fatto. E spesso e volentieri il giorno dopo abbiamo il nostro articolo. È stato davvero utile nei mesi passati quando eravamo in lockdown, ma in realtà, e lo dico senza voler demonizzare tutto questo settore, che io per prima apprezzo tantissimo, nasconde una grandissima insidia. Il postino che ci porta il pacco innesca dentro di noi un effetto regalo. Quando cerchiamo, scopriamo, scegliamo, il nostro cervello rilascia della dopamina, che è un po' la stessa sostanza che il nostro cervello rilasciava la mattina di Natale, quando tutti entusiasti da bambini correvamo a vedere quali regali ci avesse lasciato Babbo Natale. Questo è un effetto molto gratificante per noi, per il nostro ego, per il nostro cervello, e in un certo senso diventiamo dipendenti da questa scarica di dopamina che ci dà sempre questo effetto regalo ogni volta che riceviamo un pacchetto. Il problema è che a Natale arrivava Babbo Natale, ma qui i soldi sono i nostri, cioè non c'è nessun regalo perché è un acquisto. Ma il nostro cervello non lo sa. Per il nostro cervello l'effetto è lo stesso. Quindi più noi acquistiamo, più siamo gratificati, più abbiamo dopamina, più rivolgiamo sentire quella sensazione di felicità dell'aprire il pacchetto che noi stessi ci siamo regalati. Quindi attenzione, perché questo effetto è molto molto ben conosciuto dai ricercatori di marketing. Lo sanno che il tuo cervello ha questo cortocircuito e lo sfruttano per incentivarti a fare altri acquisti. Quindi magari tu sei lì che stai facendo una ricerca di lavoro e ti si apre il pop-up che ti segnala che l'articolo che avevi messo nella tua lista di desideri è di nuovo disponibile. E quindi, beh, non voglio acquistarlo? Vai, con un click, è semplicissimo, facile, immediato? Sì, però in realtà è un'arma a doppio taglio. Quindi attenzione, riflettici e cerca di riconoscere questo effetto regalo che si innesca nel momento in cui il postino suona il campanello. Per oggi, Less is More termina qui. Se ti è piaciuto, se pensi che gli spunti e le riflessioni che abbiamo fatto insieme durante la puntata siano utili, consiglia a un amico l'ascolto. Gli farai sicuramente un favore. Puoi lasciarmi 5 stelle e una recensione su iTunes che è utile per far salire questo podcast nelle classifiche. Nelle note puoi trovare tutti i riferimenti al mio blog e social network con cui condivido articoli, contenuti e svedienze. Infine, se vuoi contattarmi per scrivermi un commento o darmi suggerimenti, puoi farlo a simonabergami82.com. Non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla settimana prossima per scoprire insieme un'altra cosa da lasciare andare, un altro pezzettino della nostra vita da alleggerire per renderci un po' più liberi.